Buongiorno! Sono tornato per un nuovo video. Prima di parlare di tradizione e gastronomia e il momento fotografico. Non c'è bisogno di attraversare il mondo per divertirsi. La foto è stata scattata dalla camera da pranzo. Ed ora vi parlerò di una festa con un po' di ritardo, la Candelora, che è il 2 febbraio. Questa festa cristiana è la presentazione di Gesù al Tempio, 40 giorni dopo la sua nascita e anche la festa della purificazione di Maria. Ma la sua origine è pagana, romana, nota come festa candelorum e festa delle candele. Se volete documentarvi, troverete informazioni straordinarie. A seconda della regione e del paese è anche la festa dell'orso o della marmotta. Un film del 1993 con Bill Murray racconta questa festa e le leggende associate. Ora parliamo di cibo. In Francia la Candelora è la festa delle crepe, un dolce facile da preparare e di un ripieno poco di conosciuto in Italia, il caramello al burro salato. Per quattro persone, in un recipiente abbastanza capiente mettete 250 grammi di farina tipo 00, un pizzico di sale, due cocai di zucchero, mescolate bene. Fate un buco al centro e aggiungete quattro ova uno ad uno fino ad ottenere l'impasto liquido. Se vi sembra troppo denso, mettete ancora un po' di latte. Quando aggiungete 50 grammi di ovo fuso, fate raffreddare, mascolando bene. L'impasto è pronto. Per cucciare le crepe, mettete sul fuoco una padella con un filio d'olio. Quando la padella è molto calda, con della carta absurdante, stendete bene l'olio e rimuovete l'essesso. Versate mezzo mestolo, più o meno, a seconda della dimensione della padella e stendete l'impasto con movimenti circolari. Lasciate cucciare per un minuto, poi girate. Se siete amanti del brivido, poi potete farla girare in arria. Un minuto ed è pronta. Una crepe si mangia calda, o lo chef si sacrifica, o poi mettete le crepe su un piatto tra due fogli di allumino in forno a 100 gradi. Per il ripieno, potete usare un po' di zucchero con o senza zucco di limone, cioccolato fuso, miele, marmellata, panna montata. Secondo il vostri gusti, oppure caramelo al burro salato che si prepara così. In una cacerola anti-adeante, mettete 100 grammi di zucchero, mettete la padella sul fuoco e aspettate. Di tanto intento, ogni tre o quattro minuti ruotate la padella. Non mescolate mai il caramelo con una frusta o un cuccaio. Nel frattempo, scadate 250 mm di panna. Quando bollete, spegnete il fuoco. Quando il vostro caramelo è pronto, togliete dal fuoco, aggiungete 50 grammi di burro e tre grammi di sale circa, quantità variabile, a seconda del vostro gusto. Mescolate bene ed energicamente. Quando tutto sarà ben amalgamato, rimettete la padella sul fuoco e aggiungete la panna. Mescolate senza mai fermarvi circa cinque minuti. Quindi versate il caramelo in un barato, una volta raffredato e pronta da mangiare. Provate-lo una volta su delle buonissime crepe. Buona degustazione e a presto.